Voilà, abbiamo in Italia due bravissimi ballerini e maestri e loro sono due artisti, grandi artisti che vengono dall'Olanda, Akram e Sevda, loro parlano inglese, quindi comunque faremo una piccola traduzione. Parli inglese e sei qui in Italia, tra noi, cosa pensate di questa volta? Ok, quindi, da quando ho venuto in Italia, la mia prima volta era nel 2015, nel Roma Chizoma Festival, mi piace le persone, le persone sono molto calme, bellissime e con energia, quindi mi piace le persone. Per me in Italia è davvero grande e ora siamo venuti con Sevda, siamo venuti molte volte all'Italia e siamo felici di essere qui, quindi credo che Sevda vuole dire qualcosa. Loro hanno iniziato a venire da noi nel 2015, si trovano molto bene, gli italiani gli piacciono, comunque noi siamo simpatici, pure noi, siamo simpatici, italiani. E loro verranno sempre in Italia adesso, perché loro sono anche il primo, il 2 luglio, la festa del secondo giulio. Sì, è un festival di Summer Light, in Abruzzo. Abruzzo, in Giulia Noma. Loro saranno. Quindi, Sevda, tu hai un... guardate molto particolare, tu hai molto bellissimi occhi, guardate questa ragazza, è molto particolare lei. Tu sei proprio, sei in Holland, sei nata? Sì, sono nata e riuscita in Holland, ma la mia origine, i miei bambini, sono turcici e grecici, quindi è mixato. Sì, greca, da Turchia e da Grecia. No, perché si vede, tu hai il... Il turcico. Loro è piaciuto moltissimo anche il festival. Giusefta, ti piace questo festival? È la festa in Marca per Chizomba, ma cosa pensi? Il Marca Chizomba, per me, per dire prima, è la mia prima volta a un festival in Italia, in Italia, sì, perché 4 settimane eravamo in Teramo, in Tortoretto, era molto bello, e ora siamo qui, in Marca, mi piace davvero, molte persone che vogliono seguire ogni workshop, sono davvero motivati per imparare molto, e questo ci dà molta energia, e questo è l'energia che ci dà loro. Quindi, sì, possiamo aspettare per tornare, quindi, Summerlite. Loro hanno molta energia, loro dicono che comunque sono stati benissimo accolti, per lei è la prima volta che viene qua al festival in Italia, ma verrà, successivamente, la vedremo spesso, insomma, sono delle due figure che vedremo con noi, tantissime volte. Allora, facciamo un saluto, goodbye to Italy and to everybody, ok? So, goodbye. Ok, thank you very much and we see you at Abruzzo, Chisomba, Summerlite Festival, sì? Sì! Ciao ciao! Marche Chisomba Festival! Mobile Channel! Moveastics channel! Ya-Ya!